Come è il Consorzio di Bonifica? Che è una certificazione di sostenibilità ambientale dove noi garantiamo al consumatore che è il nostro cliente finale la possibilità di utilizzare un percorso sostenibile che mette in condizione esso stesso di avere la possibilità di acquistare il prodotto che viene praticamente irrigato con un percorso sostenibile dell'acqua. Ma vorrei anche sottolineare un'altra cosa per me importante, noi come agricoltori, e lo dico all'alta voce, spesso veniamo additati come i soggetti che consumiamo acqua, io lo voglio ribadire, noi l'acqua la utilizziamo e la rimettiamo in falda meglio di come l'abbiamo presa. Quindi dal punto di vista ambientale siamo i soggetti che oggi, ogni giorno praticano una sostenibilità di carattere ambientale. Grazie. 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 Grazie.